a 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 forza forza signora la corsia preferenziale per i mezzi pubblici non è che si chiama preferenziale perché la preferite a 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 i a a a a il nostro francesco jake quando l'uno forza 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 signora la corsia preferenziale per i mezzi pubblici un'eca si chiama preferenziale perché la preferite si chiama bella forza capo ma che aspettate che sa maturo da faccia proprio che si caia forza ma che è sicolare forza sicolare adesso adesso no 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 non ci sia a poi capito a chi si calaccia ferma solamente picca picca stai addosso stai stai addosso stai addosso ma finca no Francesco la pantera poi stavate correndo no ma che passerà no da chilometro orari è bella e buona, bella e buona, niente non si aspettava ha un bannato a chiudere il freno e non fa il capello e grino a chi non sa che era bello e grino? te ne aveva aranciato a mano e che c***o picchia taglia addosso, taglia addosso taglia addosso, taglia addosso, taglia addosso, giacquari no, picchia, Francesco taglia addosso, taglia addosso, taglia addosso taglia addosso, 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 tag DOLARE 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 Alla Omo strochi, omo strochi, omo strochi, omo strochi! Ok, ma lei mi ha una curiosità, ma in Coppa metropolitana fanno il trasloco. Ma che? Venga che sta arrivando un uomo, ma da morire un mammut, c'è una criminale. . 3 . Grazie.